con tra gli altri eh Samuel Dei Subsonica eh con Samuele Bersani con Vasco Brondi con Francesca Michelin e tanti altri e che oggi ha con noi a cui do il benvenuto Alberto Fumagalli di Nameless e Paolo Rizzi di Bavoli in Piazza. Benvenuti. Ciao Andrea grazie. Ciao Andrea. Come state? Ciao a tutti. Bene bene. Bene per quello che si può dire bene in questo periodo. Eh sì. Tocca proprio ricalibrare il concetto di bene in un certo senso. Assolutamente sì. Anzi tutte le volte che ti capita di chiedere a qualcuno che fa il nostro lavoro come va cioè ti fai anche la domanda dopo che l'hai chiesto ma forse era il caso di stare zitti non lo so. Come come andava? Questo forse funziona meglio. Come speri che andrà? Possono diventare due nuovi modi con cui relazionarsi con gli altri. Eh io vorrei partire proprio da questo. Vorrei partire proprio da questo spunto che hai appena dato e cioè quando si chiede come va a i lavoratori dello spettacolo, a persone che lavorano con concerti, con eventi, con musica, con teatro ehm è davvero è davvero doloroso domandarlo perché si sa già che va male. E vorrei chiedere appunto prima di tutto a Paolo Rizzi di Bavoli in Piazza. Bavoli in Piazza è stata questa iniziativa colossale, meravigliosa con cui appunto si è data si è data una visione eh del futuro ma soprattutto del presente dei dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo e che con una prima manifestazione ad ottobre avete mostrato quanto è vasto il problema, quanto c'è da fare per dare dignità lavorativa e psicologica a tante persone. Vorrei proprio chiederti in questo senso come sta andando più che come va. Allora Andrea beh abbiamo parlato diverse volte insomma di questa di questa situazione perché fortunatamente ci sta andando più una mano per per affrontarla perché non è un momento facile. Come come un impiazzo ho detto prima mi faccio sempre un po' carico di dire sì va bene nel senso che va malissimo. Ovviamente è un disastro. È una reale è una situazione drammatica, drammatica psicologicamente e in questo momento che ci troviamo a confrontarci anche con tanti oltre che con tanti lavoratori con cui ci contattiamo, amici collaboratori che ci sentiamo anche con tante sigle e soprattutto quelle invitate anche dal ministro Franceschini adesso al tavolo permanente quindi c'è stata una rete fitta di comunicazioni e di zoom infinite con gli altri per sempre per confrontarsi e vedere. Ecco da quel punto di vista là può andare abbastanza bene nel senso che effettivamente da questo punto di vista come volo in piazza si è percepita veramente tanta voglia di fare tanti soggetti determinati con un impegno e con una determinazione fuori a ogni altro fuori a ogni situazione situazione. Veramente questo è positivo anche se da un lato alcuni dicono ce n'è troppe e sì non si riusciranno a sentire tutti quanti hanno molte cose da dire è vero ci sono tantissimi lavoratori lavoratori che sono stati invisibili per cui con la manifestazione abbiamo dato visibilità finalmente sono una moltitudine enorme e sono quasi 600 mila persone in questo paese e rappresentano un vero e proprio settore industriale con dei dei fatturati e con un lavoro veramente madornale. Come stanno i lavoratori? Ne stanno malissimo. Ultimamente anche oggi guardavamo molto girano anche dei me me no come siamo dopo tutti questi giorni senza lavoro c'è la gente in doccia vestita in stati psicologici veramente difficoltosi. Abbiamo trovato un po' di ossigeno su quello che stiamo facendo nel senso che riuscire però adesso a prendere coscienza delle cose a metterci insieme in questi tavoli a confrontarci a sollevare delle problematiche e poterle anche scaricare anche direttamente sul tavolo del governo in questo caso comunque tra di noi affrontando queste riflessioni ci ha portato anche ad avere una carica una ragione una ragione in più forte per andare avanti ed è quella di continuare a pretendere che si venga che venga fatto qualcosa per ripartire perché aspettare ancora in vano il covid che scompaia o delle soluzioni dall'alto è troppo struggente non se la si fa noi siamo abituati a programmare a lavorare con programmazione in maniera precisa e rispettando anche determinate regole però basta averle che siano che arriviamo a una decisione congiunta di queste regole che siano applicabili e che si possano utilizzare quindi quello che ci auguriamo è che venga prestissimo ma già col nuovo anno analizzati e noi come associazione abbiamo già raggruppato i migliori anche tecnici ingegneri e vogliamo un confronto costante da subito con un comitato tecnico scientifico col governo per riuscire a fare degli scenari per cui a breve il prima possibile speriamo a questo punto la prossima primavera quando verrà estate di poter avere delle metodologie di lavoro che ci permettono finalmente di riuscire a programmare a lavorare perché senza programmazione non riusciamo a ripartire mai più e se facciamo ancora un anno come è stato l'unico maledettissimo degli eventi credo veramente che resteranno solo un polvere di macerie e quindi da questo punto di vista da questa voglia di crearci degli scenari analizzare dei parametri e metterci a lavorare per mettere in piede qualcosa di sostenibile programmabile in questo si ti dico bene forza ci siamo con tutta l'energia insomma da questo punto di vista. Perissimo Paolo hai parlato di numeri hai parlato di di presenze parlato di lavoratori dello spettacolo e su questo vorrei sollecitare proprio Alberto e cioè i numeri di nameless sono stati meravigliosi sono stati un crescendo dal 2013 dai 13 mila sono arrivati a 50 mila sicuramente ce ne sarebbero stati ancora molti di più nell'edizione del 2020 che adesso è stata spostata al 2021 e di quei numeri lì oltre ai 50 mila io ricordo un tuo post in cui raccontavi anche i numeri positivi e cioè il fatto che è una bassissima percentuale di che ne so di di utilizzo di alcolici una non c'era l'intento di andare lì per cercare chissà che forma di stordimento c'era davvero un senso di comunità che si percepiva all'interno di nameless e che davvero può essere come dire spiegato che il giornalismo la comunicazione ha il dovere di spiegare il dovere di rappresentare quello che avete fatto voi quello che stanno facendo alcune realtà in Italia nel vostro caso il più grande evento della 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 zona sicuramente è uno dei più importanti in Europa in generale che ha a che fare con la costruzione di un senso di comunità quindi vorrei sollecitarti su questo su quanto la dimensione del live sia molto spesso soprattutto quando la musica non è country e non è non sono come dire delle musiche considerate dai dai più delle musiche rilassanti viene subito additato come quello è un luogo di perdizione in realtà è un luogo in cui tantissime persone si trovano sì anzi ti dirò di più noi da praticamente da sempre abbiamo lavorato per costruire il nostro festival non tanto su quelle che sono le grandi line up dei grandi festival europei mondiali per una questione prettamente di budget oltre che anche legata a tutta una serie di problemi che possono nascere quando sei vicino a Milano a livello di esclusività e quant'altro e questo è stato è stato un pochino una una spina nel fianco per noi i primi due tre anni quando non avevamo ancora percepito il valore dello stare in provincia e del provare a costruire qualcosa che andasse oltre la line up stessa e che fosse invece appunto come definisci tu alla perfezione il senso di vivere un evento in comunità quando siamo andati a Barzio nel 2015 ci siamo rimasti fino al 2019 Barzio è questo paesino minuscolo in provincia di Lecco in mezzo alle montagne che fa 1300 abitanti e quando siamo andati lì in questa piccola valle e abbiamo incominciato a fare il festival in un posto appunto circondato dalle montagne siamo riusciti a a creare anche senza senza saperlo per certi versi un qualcosa che andava oltre la musica che andava oltre tutto il resto che per carità è un valore fondamentale degli eventi come i nostri ma non può nemmeno essere l'unico altrimenti i rischi di andare a diventare una rassegna di concerti e non un festival come a noi piace definirci diverso dalla classica tipologia di festival all'italiana che è sempre una rassegna di concerti nel 99 per cento dei casi ti dirò di più proprio tornando al discorso che stava facendo Paolo e già Paolo gliel'avevo accennato in occasione di una call che abbiamo fatto con con una onorevole qualche settimana fa noi già da mesi eravamo al lavoro alla stesura di un protocollo per poter svolgere il festival anche qualora la pandemia fosse ancora in corso questo non per il business perché sappiamo benissimo che se domani mattina dobbiamo fare nameless con i numeri gli investimenti già stanziati per il 2020 all'interno di un'edizione del 2021 che per forza di cose sarà rimaneggiata da molti aspetti perché non sarà un anno da vivere al cento per cento e a quello gli andiamo ad aggiungere anche i costi che avremo per gestire il protocollo in un certo modo piuttosto che l'affollamento piuttosto che il food and beverage eccetera eccetera sicuramente non potrà essere una scelta business oriented per noi sarà una scelta che va proprio è stata una scelta quella di scrivere questo protocollo che va proprio nella direzione della comunità di cui stavi parlando poco fa noi in questo momento sentiamo al di là del della della voglia di lavorare sentiamo un fortissimo senso di responsabilità sociale sia nei confronti dei nostri lavoratori ben rappresentati da bauli in piazza che abbiamo anche cercato di sostenere nei mesi scorsi perché per fortuna abbiamo fatto un po' le formichine negli ultimi anni quindi siamo riusciti ad aiutarne qualcuno anticipando dei delle delle fatture che chiaramente non possono che far comodo a tutti quest'anno ma anche soprattutto nei confronti dei nostri clienti perché oggi io vedo all'orizzonte un grande 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 problema a livello generazionale perché tutti i ragazzi della generazione z probabilmente non hanno mai vissuto un concerto e stanno vivendo chiusi in casa da un anno e capite bene che un adolescente chiuso in casa non è una cosa totalmente normale e non possiamo pensare di costringere questi ragazzi a immaginarsi il proseguimento della loro vita in streaming perché è chiaro che in streaming o sui social perché è chiaro che è bellissimo incontrarci senza dover fare centinaia di chilometri con la comodità di zoom o degli strumenti che si possono utilizzare è chiaro che si può costruire un nuovo concetto di complemento al divertimento un nuovo intrattenimento utilizzando i canali che probabilmente in futuro sostituiranno o evolveranno la nostra televisione per intenderci ma la vita vissuta e le emozioni che un concerto ti lascia sulla pelle sono impagabili e sono fondamentali anche per far crescere comunque dei ragazzi nella consapevolezza di ciò che li circonda quello che tu dicevi prima cioè i bassi numeri che abbiamo sempre avuto a nameless dal punto di vista dell'abuso di alcol i bassissimi numeri sull'utilizzo di droghe sintetizzano il fatto che comunque all'interno di un evento con decine di migliaia di persone si può fare educazione oltre che socialità e oltre che cultura di conseguenza riteniamo che oggi tutte le aziende come la nostra debbano mettersi un pochino a disposizione e mettere a disposizione il proprio know-how i propri i propri capitali e la propria voglia di lavorare per cercare di appunto fare qualcosa di utile per per il mondo che ci circonda paolo alberto ha fatto riferimento agli adolescenti adolescente una parola molto bella perché se adulto viene da ad oleo e cioè cresciuto adolescente è letteralmente il crescente colui che sta crescendo ed è notorio che si cresca attraverso lo sguardo dell'altro toglierti dallo sguardo dell'altro che osserva lo spuntare del baffetto il cambio di voce significa trasformare quella crescita mi sembra che sia un parallelismo interessante quello che possiamo fare insieme con la condizione dei lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo perché molto spesso si tratta di homo faber cioè di persone che vivono dell'ideazione e poi della manifestazione delle idee che vivono del della creare della capacità di mettere a terra costantemente progetti che vivono della relazione tra loro e appunto io ho imparato in questi in queste settimane in questo mese e mezzo due mesi in cui appunto ci siamo conosciuti una quantità di figure vastissime dal rigger al facchino dal dal direttore di palco al direttore delle luci che sono tutte quante unite dalla stessa esigenza di come dire di scendere in campo e di calcare i palchi e costruire i palchi e come se di questo ne abbiamo parlato appunto ti vorrei sollecitare su questo tema è come se insieme all'emergenza sanitaria ci sia un'emergenza psicologica in parte sottovalutata soprattutto nei riguardi di persone che non solo si trovano a fronteggiare una crisi economica e quindi soldi che non entrano ma anche significato che manca significato dell'esistenza che viene a mancare correggimi se sbaglio dal 9 marzo che tantissimi lavoratori lavoratrici dello spettacolo non lavorano eh sì quello che dici è tutto vero appunto e la ripresa quella che doveva esserci una ripresa ha coinvolto se ne ho il 5 6 per cento dei lavoratori quindi per per pochi mesi poi perché è andato di nuovo un'altra chiusura e quindi di fatto non c'è staff e quindi effettivamente tutte queste maestanze un novanta per cento novanta cinque per cento di queste maestanze sono fermi dal 9 marzo i primi a fermarsi ovviamente essendo la problematica alla galera relativa all'aggregazione gli ultimi a ripartire il problema è vero al di là del problema economico che poi per tutta una tipologia anzi per la università per le diversissime tipologie di contratti che legano questi lavoratori poi con 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 l'agenzia prima che per la quale si lavora si è creata una situazione amministrativa molto molto brutta per il quale poi molti lavoratori effettivamente hanno percepito non hanno percepito la casa integrazione i bonus non sono arrivati per problematiche burocratiche relative alle iscrizioni codici a teco e perché l'inps non era in grado di di adeguare determinate circolari insomma tutto un affare anche burocratico che ha messo una situazione economica di difficoltà ma a questa si aggiunta come dicevi tu la problematica psicologica tutti questi lavoratori e sono sono una cinquantina le professioni che si svolge ci sono dietro un qualsiasi spettacolo che sia musicale un evento di spettacolo di intrattenimento e queste persone però appunto sono abituate a mettersi insieme a lavorare insieme in rete in poco tempo con un grande professionalità per realizzare qualcosa di unico che è lo spettacolo che poi appunto si manifesta nel pubblico in questo in questo rituale in questo rito che nella storia dei tempi è sempre stato fondamentale per l'uomo da mettersi uno nei confronti all'altro però i lavoratori stessi arrivano con molta adrenalina a questo punto si cibano quasi di questa organizzazione che deve essere perfetta per riuscire a mettere in scena l'evento e questo lo fanno con un'alta intensità e in alcuni assi di tempo molto concentrati e di conseguenza il loro lavoro per molti mesi all'anno parlo dei nostri colleghi di me stesso quando siamo in tour o cose del genere diventa che per mesi la nostra unica famiglia di scambio restano i nostri colleghi di lavoro e quindi il momento in cui ci viene a mancare il lavoro e quindi la tournée i quattro mesi oppure andati in una città particolare a fare un evento particolare e ci viene a mancare la nostra famiglia e quindi a tanti di noi che abbiamo già difficoltà di mantenere i rapporti magari personali che abbiamo a casa e molti anche magari non ne hanno e la nostra famiglia quella del tour nel momento in cui si ferma questo ci troviamo in una situazione drammatica dal punto di vista economico con difficoltà reali di sopravvivenza e un abbandono totale nei nostri rapporti sociali questa assenza dei rapporti sociali che si riesce un po' a colmare lo stiamo verificando noi adesso ed è sicuramente fondamentale le nuove tecnologie zoom le piattaforme quant'altro per riuscirci a essere collegati ma il fatto di essere proprio assente quella quello scaricare a terra ma anche quella fisicità che tutti quanti assieme ci mettiamo in atto quando realizziamo un qualcosa e i nostri rapporti che ci legano gli uni agli altri che sono fatti di lavoro ma sono anche fatti di affetto e di rispetto reciproco ecco questa assenza qua è veramente la cosa più dolorosa e più difficile da dover sopportare ed è difficile anche da affrontare sebbene quanto ne abbiamo parlato di questa cosa di quanto ci sarebbe veramente bisogno di supporto per dare una mano a questi lavoratori e chiudo anche per esempio l'idea ultima che abbiamo avuto quella di realizzare gli alberi di Natale fatti con i bauli fatti dai lavoratori stessi con idee stesse da loro stessi con in questa maniera qua ha già alleggerito un po' il Natale di alcuni di noi anche dagli altri ha solo il pensiero di vederci di trovarsi in quella piazza a realizzare una piccola installazione insomma anche se in alcuni casi è anche bella e di valore e tutto quanto ma ecco questa questa assenza è è difficilmente colmabile per questo chiediamo con forza il fatto di poter riaprire degli scenari lavorativi almeno da mettere in atto delle soluzioni perché questo almeno ci permetterebbe di ritrovarci tra noi e di poter di nuovo lavorare assieme rilasciare queste cose in un'ottica magari di studio nella quale si possa proporre degli scenari dei modelli perseguibili prima possibile insomma questo sarebbe già una cosa molto importante in attesa chiarissimo Paolo e su questa appunto esigenza di comunità di lavoratori e oltre che poi di fruitori come diciamo prima con Alberto vorrei sollecitare proprio Alberto su un tassello cruciale del nameless festival che è la location cioè il luogo in cui tutto questo poi si è spostato una valle incantevole incantata in tutti i sensi del termine e il fatto che appunto in un certo senso sia una sorta di mi viene da dire preveggenza del futuro come a dire forse il caso di di spostare le nostre attenzioni e il nostro modo di vivere lì forse il caso quantomeno di considerarla non dico la burning man però di avere presente il fatto che la normalità non voglio tornare alla normalità perché la normalità era il problema ho letto su un muro dietro a una libreria e mi sembra davvero che tra le tante anormalità possibili quella della della vostra valle sia veramente una delle più interessanti sì beh noi tra l'altro abbiamo cambiato avremmo cambiato location nel 2020 scendendo dalla valle ma non di molto spostandoci ad annonebrianza in un'area che è enorme Paolo che di eventi ne ha visti tanti penso che se gli dico che ho 400 mila metri quadrati di prato in cui andare a costruire un festival capisce che forse manco Modena Park con Vasco Rossi aveva così tanto spazio di esposizione quindi ecco diciamo che abbiamo fatto delle scelte volte proprio a poter continuare a sviluppare a far passare il concetto che si può fare qualcosa di grande anche in location non convenzionali e abbiamo scelto volutamente una location non convenzionale come un campo d'Apolo perché in Italia non è così utilizzato e soprattutto questo non è mai stato utilizzato per fare alcun tipo di evento e lo abbiamo scelto comunque in una città non ebrianza comoda per essere ancora una volta legata al territorio che ci rappresenta e che ci ha dato i Natali e le prime fortune diciamo ecco tra l'altro il paese di fianco da non ebrianza è Molteno paese di Lucio Battisti quindi comunque c'è tutta una storia anche se vogliamo da poter andare a raccontare e sviluppare nei mesi e negli anni che verranno ecco siamo comunque sempre vicini al lago di Como eccetera eccetera quello che credo io è che sicuramente in un contesto come questo la riscoperta delle location non convenzionali può essere già uno strumento di aiuto al trovare una strada per evitare l'assembramento folle adesso non vorrei dire qualcosa di esageratamente provocatorio però vi dico solo due punti riguardanti il nostro protocollo e la nostra location per spiegare il mio pensiero mi ricordo a maggio quando era finito il lockdown e nonostante le attività erano ancora quasi tutte chiuse c'era poco poco da fare io che abito vicino alla nostra vecchia location quindi sulle montagne sopra il lago di Como ricordo che ogni weekend non riuscivo a muovermi da casa mia da quante auto di lombardi che venivano a farsi la passeggiata fuori porta c'erano in quel momento qui in un contesto di zero controlli zero tamponi zero di niente perché lo sappiamo tutti come è stato maggio è stato un apriamo piano piano perché non sappiamo cosa ci aspetta ok ora noi siamo arrivati a un punto a livello di know-how grazie alle collaborazioni che abbiamo sviluppato in questi mesi in particolare con l'IRCCS ospedale sacro cuore don calabria di negrar verona siamo arrivati a un punto in cui siamo riusciti a stendere un protocollo che ci consente sfruttando gli asset tecnologici che già avevamo dentro nameless perché nameless già dal 2020 aveva in programma di utilizzare dei biglietti dematerializzati messi su braccialetti tipo il bracciale da da che che usi per per un villaggio turistico per intenderci spediti a casa dei clienti dei clienti un mese prima dell'evento ok quindi già avevamo questi asset che già utilizzavamo negli anni passati per i pagamenti all'interno del festival e che da quest'anno 2020 dovevano diventare anche ticketing al cento per cento e l'idea che abbiamo avuto è molto semplice leghiamo l'esito di un tampone alla validità del braccialetto all'accesso dell'evento ci siamo guardati tutta la trafila per fare i tamponi quali tamponi ci possono garantire un numero appunto di elaborazioni di esiti sufficiente alla nostra capienza in tot tempo in modo da non creare colli bottiglia all'ingresso abbiamo avuto anche la fortuna purtroppo fortuna che in questo caso ad oggi non si potrebbe replicare in tutti gli eventi ma sono convinto che qualora al governo volessero prendere spunto potrebbero risolvere il problema in poco tempo abbiamo anche la fortuna di avere a un chilometro esatto in linea d'aria dalla nostra location una struttura che è un centro di analisi autorizzato da regione lombardia con cui abbiamo già iniziato i dialoghi ce ne sono altre in poco in poco spazio però ecco quello che abbiamo pensato è veramente banale è frutto del buon senso il buon senso che accomuna quelli che fanno spettacolo in generale perché paolo lo sa benissimo e meglio di me ma quante volte ti capita di andare a montare un palco e qualcosa non ci sta perché non è considerato una determinata cosa viene in mente nel 2016 addirittura avevamo completamente sbagliato le misure delle altezze e ci siamo reinventati il palco tipo tre giorni prima del festival montandolo live mentre già provavamo a vedere se ci stava per intenderci no alla fine il mondo dello spettacolo e il mondo di chi costruisce spettacolo è bello anche per questo perché devi sempre trovare una soluzione anche quando se ti guardi intorno la soluzione non esiste e quindi ci siamo messi appunto a immaginarci queste semplici regole di buon senso l'obbligo del di avere il tampone effettuato che puoi fare all'ingresso a un costo agevolato chiaramente e che solo se negativo autorizza il nostro tornello all'ingresso a farti entrare quindi impossibile da da contraffarre ovviamente in ottica di sicurezza dei gate per l'ingresso con addirittura riconoscimento facciale oltre al controllo della temperatura piuttosto che il tutta la parte food and beverage fatta in formula pick and sit in modo da evitare completamente assembramenti quando uno vuole andare a prendersi un panino una birra vai ordini dall'app che è collegata al braccialetto quindi super tecnologica anche questa fai il tuo ordine vai al bancone all'ora esatta lo ritiri e avrai 5.000 tavoli distanziati dove puoi metterti a mangiare tranquillamente senza andare a creare nessun tipo di problema per nessuno oltre a questo tutta una serie di altri dettagli su cui non voglio dilungarmi per garantire che comunque le persone continuino ad indossare le mascherine in qualunque momento all'interno del concerto quindi ecco sono tutte regole che se pensiamo al a un italiano qualunque in questi mesi ha ascoltato qualunque virologo parlare avrebbe potuto scrivere le stesse identiche regole quindi non è che stiamo inventando l'acqua calda quello che voglio dire però è che secondo me è quello che oggi ci sfugge è che se io a maggio a giugno a luglio partecipo a un evento che ha uno standard di sicurezza di questo tipo basato esclusivamente sul buonsenso sarò sicuramente meno a rischio di andare nel centro di una città nel maggio post lockdown del 2020 e questo è banale razionale è così è un dato di fatto che sia così perché se ma anche soltanto pensiamo alla gente che oggi gira nella nostra regione Lombardia da quando siamo diventati zona gialla io sono uscito prima che dovevo andare a comprare un paio di cose c'è in giro il mondo e c'è in giro il mondo e nessuno si sta facendo i tamponi per andare nelle piazze nessuno si sta facendo i tamponi per andare nei supermercati nessuno si sta facendo i tamponi per niente quindi non voglio essere appunto non voglio che questa mia affermazione sia una provocazione però è un dato di fatto che il mondo dello spettacolo ha delle competenze soprattutto in termini di gestione dei grandi numeri di gestione dei grandi flussi di costruire delle vere e proprie città che nascono in una settimana finiscono in una settimana e magari sono già pronte strutturate per gestire per far vivere in sicurezza più abitanti di quanti ne fa il mio capoluogo di provincia lecco che fa 45 mila abitanti e lo sappiamo benissimo che è così e che capita spesso quindi delle competenze di questo tipo io sono convinto che andrebbero sfruttate sono convinto che delle persone che hanno questo tipo di capacità sarebbero state un valido aiuto nella gestione della pandemia già dal giorno zero e noi più volte nel nostro piccolo abbiamo detto alla nostra azienda sanitaria locale che volevamo essere disponibili qualunque necessità loro avessero nel reperire dai container alle tende quando non se ne trovavano più perché banalmente i nostri fornitori da disoccupati visto che lavorano nello spettacolo ne avevano a tante altre cose e abbiamo sempre appunto avuto un rapporto collaborativo con loro in questi in questi in questi termini ecco io credo che chi fa il nostro lavoro e la maggior parte se non la quasi totalità lo fa in modo onesto rigoroso e con la totale attenzione della salute delle persone che partecipano ai propri eventi può essere il vero valore aggiunto per provare a vivere quel famoso new normal di cui parlano nell'attesa in cui si torni al vero normale si torni alla vita alla vita normale ricordiamo che appunto annone di brillanza e la location sarà la poncia si chiama giusto la poncia si la nuova poncia è un polo club appunto di 40 ettari è totalmente pianeggiante con molto comodo anche dal punto di vista della raggiungibilità perché abbiamo addirittura tre svincoli sulla sulla statale più importante di quel legamento stradale della zona volendo avremmo anche una stazione ferroviaria ma diciamo che non rientra nei piani più brevi visti i problemi di affollamento dei mezzi di trasporto quindi abbiamo abbiamo tanto spazio io penso che ventimila persone in quattrocentomila metri quadri neanche le vedi quindi direi che ecco anche quello potrebbe essere un valore aggiunto ma non serve venire a guardare la nostra location perché comunque l'affollamento vero e proprio sì ce l'hai magari sotto i palchi ok il rischio ce l'hai perché perché la gente canta perché la gente fuma perché la gente beve togliamo il fumo sotto i palchi e vietiamo di bere sotto i palchi obblighiamo la gente a stare con la mascherina mentre si ascolta un concerto e avremo un rischio sicuramente più basso ripeto non sono un virologo non sono un medico ma è un dato di fatto perché ce lo raccontano tutti i giorni da tutte le tv che basta basterebbe tenere la mascherina quando non c'è la possibilità di mantenere le distanze basterebbe avere dei comportamenti razionali facciamo in modo che i nostri clienti possano dimostrare che i loro comportamenti possono essere razionali e possono essere comportamenti che valgono il provare a vivere una vita normale anche in un anno che non è normale grazie alberto ricordiamo dal 29 maggio al primo giugno nameless music festival paolo per chiudere abbiamo speriamo 2021 ricordiamo bauli in piazza adesso ha fatto gli alberi di bauli e ha diversi progetti in cantiere hai un minuto per raccontarci il futuro di bauli in piazza non è facile grazie per ti tirato questo no vabbè il futuro è far crescere intanto questi alberi nel senso che adesso comunque a effetto domino stanno nascendo in altre città adesso lunedì cominciano udine mercoledì io vado giù anche per per fare quello di roma poi c'è busta assizio c'è bergamo città fondamentale di rilancio proprio su questa cosa e e da lì e da lì partono tutta una serie di l'intervista in pillola e dei lavoratori stessi che credo sia una buonissima iniziativa noi la facciamo girare sui social e riuscire a sentir parlare a vedere finalmente le facce le mani e le storie di queste tipologie di questi professionisti che che si raccontano che si raccontano con dignità con rispetto emotivamente senza senza fare proteste senza lamenti più di tanto raccontano se stessi che la cosa che è venuta ci è venuta più a mancare in questi ultimi otto mesi è stata proprio la comprensione da parte della società attorno a noi che non fa questo lavoro e che non ho avuto difficoltà io stesso a spiegare ai miei genitori dopo trent'anni che che lavoro fai nello specifico perché non potessi più ancora lavorare quindi questo è sarebbe già un buon traguardo ripartire il prossimo anno con almeno chiarezza e solidarietà da parte di di tutte le persone che ci stanno attorno nel farci riconoscere veramente come dei lavoratori e non come degli hobbisti che si divertono anche a fare queste cose c'è della professionalità altissima e non vedo altro che condividere quanto ha detto prima Antonio lo sa bene anche lui sul fatto che questi soggetti tutti quelli che gestiscono i flussi le sicurezze gli ingegneri tutti queste persone qua devono essere ascoltate e coinvolte in qualsiasi forma il prima possibile nel progettare una ripartenza prima del momento in cui qualcuno magari schiaccerà il pulsante rosso e ci sarà un libero ai tutti non lo so però non possiamo aspettare questo dobbiamo darci da fare da adesso e quindi i bauli in piazza e sta facendo in questi giorni anche prima di natale abbiamo ulteriori incontri e il prossimo anno vogliamo forzare a tutta sul far partire subito un tavolo tecnico specifico su questo su questa cosa qua insomma ed è prioritario per noi grazie grazie a paolo rizzi dei bauli in piazza ricordo che l'albero dei bauli il primo è a milano e a piazza cadorna lo potete andare a vedere è una bellissima installazione tra l'altro anche dal punto di vista estetico perché dietro ci sono appunto i lavoratori e lavoratrici dello spettacolo grazie ad alberto fumagalli per essere stato con noi aimless festival e ci vediamo tra un paio d'ore con il prossimo panel buona giornata grazie grazie buona giornata ciao grazie a tutti